Convinta del fatto che il consolino non vi ucciderà, vero? È qua, è qua da me, è qua da me Parlaci, ciao Aiuto No, 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 non c'è bisogno Salve, salve No, 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 niente salve, io caro, io corro, io corro Ma ti sto salutando, povera Ma che ti saluta, mi vuole uccidere Da quanto tempo è che non giocavamo a venerdì 3D cifre? Tantissimo, mesi penso che saranno passati Allora, dimmi una cosa Le probabilità di trovare un consolino in un game, quante erano? Non lo so, non lo so Però siamo entrati nella lobby e ci sentiamo Steppe Ferreri, chi sono vostra fan? E noi, oh mio Dio, come possibile Io stavo facendo, come sempre, lo scemo, parlando E parte il consolino, ciao Lui stava già importunando tutti nella lobby Io infatti mi sono stata zitta perché ho detto Questo non lo voglio fare la figuraccia insieme a te, Steppe Così infatti Buona fortuna Vediamo se ci risponde Forse non si sente Vabbè, ma sicuramente cercherà di unirsi a noi o qualcosa del genere Allora Ma che mi ha fatto ridere che trovi così il consolino? Torniamo concentrati un attimo Nuova mappa Nuovo Jason Nuovi animatori C'è un po' di tutto Quindi andiamo a vedere un pochettino Sono soprattutto curioso della mappa che è stata messa Quindi la vedremo subito E sono curioso di vederla Allora, 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 allora Spero di non essere Jason Devo essere sincero Non voglio ammazzare un consolino Non voglio Eh no, certo Capito? Comunque è AleJ Ricordatevelo Sì, sì, sì Allora io mi inizio a mettere l'altra cuffietta Così sento meglio tutto Ah, quanto tempo Che emozioni, gente Oh, vediamo la nuova mappa Pinehouse Pinehouse Siamo nel 1986, Steph Vabbè, qua c'è la scena brutta Che facciamo? Ma sai che mi sa che è il nuovo Jason? Eh sì che è il nuovo Jason Sì, però ha tipo delle cesoie come arma Davvero? Sì Io non ho guardato nulla Perché te l'ho detto Vedi? L'hai vista? Eh, volevo proprio la sorpresa Potrei essere io Potrei essere io No, ti prego No? Ho avuto paura per un attimo Ma sei anche il nuovo Guardami Che brutto Scherzi? Guardami bene Forse non mi... Ferri, guardami, non mi avevi visto bene Sono bellissimo Allora, dove sei? Ehm... Allora Non ho la mappa Io non mi ricordo più tanto C'è scritto Reckless e Rage Sono totalmente in un lato Vero? Dimmi se riesci a vedermi Allora, aspetta Mi hai detto... Reckless e Rage Dov'è? Tutto in un angolino Ah, ok Io sono a Carnaliglio Camariglio Camp È tornata la regola di... Nelle parti poste Nell'altra parte della mappa, sì Ok È un po' triste Magari troverò il consolino che mi aiuterà Non lo so Ok, va bene Nel caso gli chiedo aiuto e piango E se lui... Jason? È un problema Uh, coltellino subito Scusa un attimo Uh, Jason Ma... Davvero? Sì No, allora vado su sicuro Non mi uccide, dai Per forza Non mi può uccidere, giusto? Non lo so Non mi può uccidere? Non lo so Tra tutte le cose che ho fatto a me Non mi può uccidere il consolino? Consolino No, lo sai che ci vogliamo bene Cioè, è vero Vero, vero Io starei un po' preoccupato Fare, devo essere sincero Allora, quando arriva Jason Io mi metto a piangere Lo dico Così vediamo se mi risparmio Bell'idea 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 Ma io vorrei cercare di raggiungerti Ma non ho la minima idea Di come si possa fare Ok Perché siamo due opposti A me sta venendo ad equipaggiarmi Manco fosse Fortnite A me sai da cosa veniva da fare Da rompere le sedie Le cose per farmi la lenta Ci sta Ci sta Non so perché Poi ho avuto una difficoltà Inizio a ricordarmi i tasti Capito? Sì, sì, sì Stiamo giocando troppo a Fortnite È chiaro No, ma non ci gioco neanche da una vita A questo gioco Quindi è davvero un peccato Allora Io ti volevo dire Eh Ci sono nuovi modi di scappare? Motoscapo Oddio Steph Dimmi Allora, io stavo cercando di raggiungerti Mi passa davanti uno Io, ah che bello Ho incontrato un altro Tutto pieno di sangue Perché c'è Jason dietro Che lo sta inseguendo E allora sono scappata correndo Ma secondo me mi ha vista Adesso mi uccide Mi uccide Tu nel caso prova a comunicare Dai, sa che sono io Lasciami vivere Ti prego Ma ti sta arrivando? Non credo Forse, forse ha visto che ero io Magari sta facendo il consolino gentile Ok Però che noia Volevo giocare assieme a lui Mi sarebbe comunque piaciuto Eh lo so, lo so, lo so Lo so, lo so Anche io, anche io Allora Io sono al finile Ok E sento un cc cacà che Eh ma quello l'ho sentito la mappa Allora Aspetta, aspetta Che ho paura Fammi vedere la mappa Finile in che senso? Eh vedi Vicino a dove ti avevo detto io C'era tipo un edificio strano giallo Sì Sono lì Sei molto lontano ancora? No Allora, se riesco a tagliare Venendo a nuoto Però Gesù mi può uccidere a nuoto Eh, quello fa ansia Ma Ma È bloccata la mappa Ah no, ok Non mi faceva scendere nel lago Dicevo ma Oh Così? Polizia Ottimo Hai visto che è diminuito il tempo? Sì 3 minuti e 40 Eh vabbè Ah però potrebbe essere un perks Ah in effetti È vero che ci sono le abilità Quindi potrebbe non essere Per le questioni di aggiornamento Ok C'è una tipa in costume di fronte a me Ok Come si facciano le motte? Non me lo ricordo più Ah con V V forse, sì Non riesco a trovare un posto Per uscire dal lago Eccomi Oh cavolo Bene Ho visto l'abilità di Gesù Io corro Convinta del fatto che il consolino Non mi ucciderà Vero? È qua È qua da me È qua da me Parlaci Ciao Aiuto No 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 Non c'è bisogno Salve Non c'è bisogno Salve No 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 Niente salve Io caro Io corro Io corro Ma ti sto salutando Ma che ti saluta Mi vuole uccidere Aspetta Aiuto Vieni qua No no Ti vuole uccidere Vieni qua Stef È magnifica No non sono magnifica Ho un coltellino Tranquilla Non se lo aspettiamo Un coltellino Io i petardi Io sono dietro di te Ci sono eh Ci sono Sono arrivata Non vedo nulla Mi spetta È cattivissimo Altro che non ci uccide Fere ha visto troppo Aiuto Aiuto No vai via Scappa Fere Tirati i petardi Stef No Mi ha preso Vai via Ok Possiamo andare via Ti prego Sta urlando Perché ci saluta Mentre cercare Fere Non mi uccidere Ti prego Crea un delirio Se parli tu Ti ha preso È cattivo Il consolino Addio Fere No ma è bruttissima La chicco Le cesoie Ma sei pazzo Per fortuna Non l'ho vista Allora Posso descrivere No Te la devo descrivere Tagliala Braccio Braccio Testa Ah Proprio Zattica No Non mi hai trovato Sono un sosia Mamma mia Digli non sono Stef Non sono Stef Sono un altro I petardi Non funzionano Grazie amico Salvami Salvami Ti prego È troppo tardi Grazie 30 mesi 30 mesi Con il Grazie Grazie per questo Bell'abbraccio Ma l'altro Sta iniziando a parlare In spagnolo No non c'è di che Addio Ciao Consolino Addio Stef Secondo me Io ti dico È stato bello Seguirti Ah pure Io trattavo Anche per me Secondo me È piaciuto Ucciderci Te lo dico Mi piace Si è divertito Molto Sinceramente Che cosa sta dicendo Quello in spagnolo Che gli fa falso Falso Sai no Lo voglio sentire Sta roba No 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 Non stavo prevedere L'uccisione Non la volevo vedere È molto brutta È molto brutta Aspetta Vedo uno che Ok Aspetta Uno sta c'è Che ne scappare in barca Vedo vedo Vedi Qua c'è da dire Che Friday regala Delle emozioni Che gli altri giochi Sinceramente Ma sei tutto andato in vita No No Peccato C'è uno che è tornato in vita E non se ne è accorto E fermo Vedi No non sono io Non mi si muove nulla Quindi non dovrei essere io Che bevamo Wonder Woman L'hai vista? Guardala Oh sei comprata il costume Ci salverà tutti Meno male Allora Scappa Scappa Corri via Povera signorina Sparalo col fucile Se lo merita Non pensi Ci ha uccisi tutti Non penso ti capisco Eh lo so ma io ci provo Ok Ti capisce Guardalo 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 Comunque corre parecchio Il nuovo Jason Sì è bello è bello Lo voglio provare anche io Sembra interessante Beh a questo punto bisogna sperare Che non ci siano altri Jason con solini Perché No lo spero Ci terminano qua Però è stato divertente Sì è stato divertentissimo È stato divertentissimo Allora fammi vedere un pochino Cosa troviamo Nulla Nulla Sì ho aperto Sì ho aperto tre cose Io entro in staccata Vediamo Pochettino Che la trovo Possiamo stendere Jason Petardi Cosigno due Ok Buono 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 Adesso vorrei un coltellino svizzero E sarei la persona più tranquilla del mondo Che può addirittura andare a passeggio Che sta tranquillo contro Jason Perché con due petardi E un coltellino svizzero Ok La radiolina per parlare tutti Io lo sento già che si muove Guarda A priori Aspetta È ora di parlare Allora My friend Come on We can win Yes Let's do this Ok Adesso Io non ti ho sentito però eh Meglio Come meglio Vuol dire che forse non hai neanche parlato Ok Quello volevo dire Che bello questa Occa sopra i comodini Ho la mappa che io non ce l'avevo Perfetto Tu sei vicina vero? Sì Sono entrata in una casa giusto per armarmi Ma ci credi che non ho Non ho trovato niente È un po' cambiato il sistema di trovare le cose Io vorrei vedere la mappa Eh anche io Perché cioè non ho fatto in tempo a guardarla prima No certo È stato troppo Una Come si dice Un'emozione dopo l'altra Cioè non ci siamo neanche goduti da partire Allora guardiamo qui C'è la cucina Ok Una padella No grazie Vediamo se qui trovo qualcosa Ma che è questo? Un tacchino? Sto guardando Ma lo stai trovando? Sto guardando cosa stavano cucinando in cucina Ah bene Molto interessante Allora Trovo sempre un coltello in giro che mi sembra un'arma Ma non ho ancora capito se lo posso prendere Oppure no Mi sa di no Allora Pensavo fosse qualche nuova arma Capisci? Uh guardate che bella la mappa Non l'avevo ancora vista io È molto carina Eh auto Quattro posti Motoscafo Eh Autorità Ok classica cosa Perfetto 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 Ho trovato un tubo Un tubo Buono Arrivo da te Ma sei lontana? No Sei quella alla destra? Sì Ok Jason sta totalmente dall'altra parte del mondo Quindi per ora siamo tranquilli Allora io andrei Nelle case vicine alle tue Perché teoricamente per la logica Che c'era prima Eh Eh ma non ho trovato nulla Cioè io ho già fatto le due Mi manca quella più a destra Oh forse l'ho fatto Non lo so Allora c'è poca speranza Oddio sento musica di Jason Sì È da te? Non so Sei attenta Non mi sembra però vengo da te Io dicevo volevo vedere la mappa Ma è talmente buio No sono dall'altra parte Tu accidenti Non ci capisco nulla È molto buia Cioè era l'impressione più buia di prima No vabbè Non giochiamo a Friday da tanto Sì ma io a buio non riesco a vedere niente Devo tenere la torcia accesa Ciao Guarda che bello che sono Aspetta Wow Aspetta ferma ferma Aspetta Fermo Se ti avvicini troppo ci gira il personaggio A quanto pare Allora Fere Di fronte a noi Che famo? Lo pestiamo? Ed entriamo in casa Gli tiro Un petardo ed entriamo in casa Ok Eh di quelli bravi Occhio Fretti viene addosso Io li ho provati a tirare Non ce l'ho fatta Steph Andrò senza di te Vai vai Continua Andrò senza di te Sì Ok Tutto molto bello e piacevole Quanto deve durare la mia morte? Perché è terribile Cioè quanto deve durare St'animazione? Meglio Mamma mia Ho più tempo per scappare Comunque hanno chiamato la polizia Sì stavo per dire Hanno chiamato la polizia Steph mi raccomando Che tanto adesso sicuramente Penso che ti venga dietro Quindi Attenzione Quando ti posso osservare Ecco qua Ecco qua Dov'è Steph? Questo qua è fenomenale Ne ha già ucciso tre Steph dove sei? Dove sei? Ok Ecco Steph Ha parlato Selena Gomez Sì ho visto Ho visto Ho visto Nice man Mi sta inseguendo di nuovo però Sì Dietro di te Lo so Oh Ti ha tirato un coltello L'hai visto? Ti ha scurato Help Please Hey man Ok Come Oh It's Shoot him Please Amico Ok Amico lo spari o sei inutile Guarda che bellissima Grazie Ok andatemela però Non rimanete Stamina Ok You like Lei che già le deletto Per è arrabbiatissimo Non farle arrabbiare Steph ti sta difendendo Ringrazio Stai zitto Perché le devi sempre fare arrabbiare Ma quanto ci metti a ricaricare? Fa schifo Due giorni Due giorni Fa schifo sto personaggio Te lo giuro Infatti ti ha abbandonato il tipo Sì sì ha fatto bene Io vorrei non ci spuglio Ok l'ho stordito Ok Non ci conviene andare in acqua La 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 Non è mai una buona idea La 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 Esci dall'acqua Vorrei uscire dall'acqua Ma è lento in tutto e per tutto Infatti mi hanno preso Io questo personaggio No scegli uno normale Uno normale Ma hai visto uno così scarso Cioè è proprio Inutilizzabile sto coso Mmm Grazie a tutti.